L'Associazione Autismo Triveneto Vicenza consegna all'Istituto Comprensivo di Montebello un software che aiuta lo sviluppo e la comunicazione rivolto prevalentemente agli alunni affetti d'autismo anche se diviene utile strumento per altre forme di disabilità o per gli stranieri. L'obiettivo del software è quello di seguire un principio fondamentale che è il principio dell'inclusione. È l'inclusione di bambini che hanno una difficoltà e quindi vanno aiutati in questo. Parliamo in immagini, questo è il nome del software è stato reso possibile grazie ad un crowdfunding gestito dal sito Rete del Dono, un'associazione autismo triveneto Vicenza sempre molto attiva. La nostra associazione fa parte del coordinamento Veneto Autismo e siamo in 20 associazioni di genitori che si interfacciano con la regione Veneto. Abbiamo un grosso lavoro con la regione Veneto perché stanno portando avanti il progetto di Rete Veneta per l'autismo con i due poli il polo di Verona che si occupa dell'autismo nella diagnosi dell'infanzia e l'età evolutiva e quello che sarà speriamo il polo di Treviso per un'età più avanzata per gli adolescenti e soprattutto per il famoso passaggio alla vita adulta.